dunque si parte da un disegno che generalmente faccio io e poi si trasforma il tutto in piegna quindi si fa su questa carta si fa la sagoma diciamo direi che voglio fare con questa il messino taglia i modelli naturalmente io non so quanti pezzi andrò a mettere trovare un pezzo solo come due quindi nelle pietre bisogna provare la sfumatura giusta e decidere dove attaccare il pezzo prendiamo l'esempio di questo pezzo qua che sono più di uno e questo è il modello corrispondente quando è finito tutto di trovare i colori bisogna tagliarlo tagliarlo poi lo faccio vedere questo è il primo semplice per quali sono altri colori che si sono maglice per due sono preziosi insomma allora questo è lo strumento da venire usato appunto l'attivo questo è un archietto di castagno questo è il filo di pezzo semplice questo qui è il smeriglio è un abrasivo quindi è duro questo è tenero la polvere di smeriglio si incastona nel ferro e taglia tipo i diamanti all'epoca medicina li portavano la sabbia di una spiaggia di Giappone in Sicilia non so un po' e questo vuol dire se fare questo lavoro ci vogliono anni di esperienza di e se non si usa questo archietto il lavoro bello è impossibile farlo tecnicamente per fare alcune cose per poi ci ha avuto tanta cosa anche ora questa si è un marmo quindi è molto morbido e veloce a tagliare se era un pezzo di pezzatura ci voleva un'oretta forse un'oretta no ma 40 minuti allora io lo sto segando sotto squavia non è parallelo ma è sotto perché dopo servirà per riunirlo meglio e per metterci la colla tra un pezzo e l'altro io lo sto faccio io lo sto faccio Deve essere sottosquaglia, poi si riunisce con questo, con la lima, deve essere un capellino più grande, si riunisce fino al modello e si suppone che dopo tutti gli altri pezzi bisogna mettere assieme. Allora ora io perché stavo facendo quello, però per capire meglio questo qui, questo qui è massavarissima, quello che sto facendo. Questi sono i modelli tagliati, questo qui è, questi sono tutti modelli tagliati e questo è il lavoro in adora. Grazie.